Questa è una buona domanda, la risposta è semplice, c'è Leandro Paredes che è pronto a giocare, che lo può fare anche dal primo minuto domani, è sicuro che il suo momento arriverà perché non è che possiamo giocare tutte le partite solo con tre centrocampisti, c'è Ale Florenzi che lo può fare anche lui e c'è anche questa possibilità di giocare con quattro giocatori più offensivi, anche se il Pjanic non è più difensivo di tutti.